Buonasera Milano, fatemi dire due parole su questa Atalanta che per il secondo anno consecutivo va in finale di Coppa Italia, già da un paio d'anni partecipa alla Champions con risultati ottimi e gioca anche un calcio divertente. Oggi parte subito forte l'Atalanta, dopo dieci minuti è già in vantaggio con un gran gol di Zapata che viene lasciato solo da 25 metri, secondo me non si sono capiti Maximovic e Isai, nessuno di due è uscito, quindi palla scoperta e Zapata libero di calciare comunque da una posizione non così semplice perché non era una posizione centrale, imbrocca un gran tiro incrociato e porta in vantaggio l'Atalanta. E già dopo cinque minuti c'è subito il raddoppio dell'Atalanta con Gosens che va in conduzione, serve Zapata che vede l'inserimento di Pessina, il quale si presenta davanti a Ospina e fa palo gol, quindi già andiamo sul 2-0. Tra l'altro Pessina giocatore di grande intelligenza tattica. L'Atalanta a quel punto aspetta sulla sua tre quarti il Napoli, un po' perché è in vantaggio 2-0, un po' perché sa che Ospina con i piedi è più abile per esempio di Meret, di conseguenza non ha assolutamente senso fare una pressione così alta e con questo sistema l'Atalanta mantiene il controllo della partita per tutto il primo tempo rischiando anche di chiuderlo per 3-0. Nel secondo tempo Gattuso fa degli aggiustamenti e devo dire che danno anche dei buoni frutti perché crea a quel punto di 2 contro 1 sulle fasce e l'Atalanta è costretta ad abbassare gli esterni, quindi prende campo il Napoli e il risultato è che al minuto 52 c'è il pareggio di Lo Sano che ha fatto una grande giocata, c'è stato un tiro di Bakayoko, la palla poi è arrivata a Lo Sano che ha provato a calciare in porta come poteva parata di Gollini e lì fa la gran cosa, a quel punto da terra, spalle alla porta, si rialza prima di tutti e segna, dimostrando una grandissima reattività, quindi complimenti a Lo Sano per questa giocata. Al 74esimo è Gollini a salvare il risultato e a mettere la propria firma sulla qualificazione a questa finale perché su un centro di Demme fa una grandissima parata su Osimen e risulta decisiva perché poco dopo Ilicic da destra gioca una palla centrale per Zapata che vede ancora l'inserimento stavolta centrale di Pessina, il quale si presenta davanti al portiere e lo supera con uno scavino di gran classe. In cronaca hanno parlato di rimpallo ma non è esatto, non è stato un rimpallo, è stato proprio un pallonetto di Pessina, quindi grande giocata 3 a 1. A quel punto partita chiusa, inutile anche l'ingresso di Petagna nel Napoli e complimenti all'Atalanta che va a giocarsi, dicevo, la seconda finale. Volevo salutare tutti i miei amici bergamaschi che non sono pochi e in particolare un saluto affettuoso all'amico Pietro che sono sicuro starà godendo molto stasera per questa vittoria. Ciao ragazzi!